E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Regione, Saga, Aslanciano-Vasto-Chieti e Aslan Pescara per l'istituzione della centrale unica interaziendale del 118 che sarà ubicata all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo. La centrale unica nell'ottica del potenziamento della rete di emergenza-urgenza nei territori migliorerà il servizio garantito al cittadino perché elimina inutili divisioni amministrative tra le due aziende sanitarie facendo risparmiare minuti preziosi nella gestione di patologie e tempo dipendenti come ad esempio traumi, ictus o infarti. L'attuale organizzazione logistica e la rete delle postazioni delle ambulanze non subirà alcun cambiamento. Quella che verrà centralizzata è solo la presa in carico del paziente che potrà così essere trasportato nel presidio più adatto al trattamento della patologia riscontrata senza perdite di tempo e senza il rischio di ulteriori trasferimenti successivi. I tempi per l'attivazione della centrale unica Chieti-Pescara saranno relativamente brevi soprattutto perché verranno reimpiegate strutture, tecnologie e personale già in uso alle ASG.